buongiorno a tutti sono giorgio bartolomucci del festival della diplomazia e oggi ho il piacere di avere con noi per the writers corner gloria origi che è direttrice di ricerca del centro nazionale della ricerca scientific dell'istituto micot dell'economale superiore spero che la pronuncia sia corretta quanti nomi francesi da dire ma lei si è trasferita ormai da tanti anni a parigi però continua a lavorare anche su sul panorama italiano perché appena pubblicato con e già editore caccia la verità persuasione e propaganda ai tempi del virus e della guerra anche se leggendo il libro l'impressione che sia un percorso e una riflessione che è scatenata già dal passato lei fa riferimento a platone ma io vorrei chiederle un passaggio che mi sembrava interessante o determinante quando nel 2016 l'oxford english dictionary immagino diciamo la treccani italiana definisce come post verità la parola dell'anno post verità intesa come tutte quelle circostanze che rendono i fatti oggettivi meno influenti soprattutto nel formare l'opinione pubblica dove poi prevalgono gli appelli alle emozioni e alle convinzioni universali quindi possiamo dire a suo parere che la verità è sotto attacco e da quando lo è buongiorno a tutti dunque la verità è sotto attacco da sempre da quando esiste la storia della politica oggi ci sembra che sia particolarmente sotto attacco perché viviamo in una diciamo sfera informazionale quella che è stata resa possibile da internet e particolare in particolare dal secondo internet l'internet dei social in cui diciamo le voci si moltiplicano e quindi diciamo ognuno può trovare su web la sua verità non c'è più una modalità di formazione del consenso che faccia sì che le verità che vogliamo accettare nel nostro mondo nel nostro mondo sociale nel nostro mondo politico eccetera siano come dire condivise da tutti io qualsiasi sia la credenza che ho posso trovare una conferma quindi una che cos'è la verità è una credenza che è giustificata e confermata quindi qualsiasi sia la mia la mia verità insomma posso trovare una conferma da qualche parte in un angolo diciamo della nostra sfera informazionale e quindi diciamo non esiste più uno spazio condiviso uno spazio diciamo democratico condiviso in cui costruire collettivamente che cosa intendiamo per verità questo è quello che io cerco di quindi la verità è sempre stata sotto attacco oggi è platealmente sotto attacco e diciamo ognuno ogni opinione che ognuno che questo era il senso un po dell'espressione post verità dell'oxel di english dictionary post verità che cos'è è il quando diciamo le credenze personali vengono considerate come verità invece che in assenza diciamo della costruzione di un di un processo oggettivo di 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 messa in piedi di costruzione della della verità nel libro quindi parlo di questa cosa su cosa è successo col col duemila e sedici è successo che la verità ha fatto il suo ingresso in politica c'è una tradizione filosofica che distingue tra verità come dominio dei fatti e politica come dominio delle opinioni oggi credo che non possiamo più distinguere queste due questi due domini queste due realtà così importanti per la nostra vita quello che è vero si costruisce anche politicamente con procedure di verificazione di assenso di di turni di parola dati alle persone di consenso come procedure di costruzione di consenso e queste procedure di costruzione di consenso sono eminamente eminentemente politiche lei infatti nel nel libro uscita un articolo di anna arendt uscito nel 67 truth and politics sul new yorker segnalo agli spettatori che è possibile 57 scusi in qualche modo la la politica raggia di pari passo con la verità ma sì ci sono ancora degli strumenti per poter creare un terreno su cui costruire anche un processo di confronto che non sia fruttosivamente di punti di vista di opinioni ma io nella nel mio nel mio libro critico la distinzione che fa anna arendt tra verità e politica cosa dice anna arendt la verità non è una nozione politica è una nozione extra politica però delle verità di fatto cioè le verità per esempio storiche che la russia ha invaso l'ucraina nel febbraio il 24 febbraio del 2022 che la shoah c'è stata eccetera di verità storiche dice abbiamo bisogno e abbiamo bisogno di consenso su quelle verità storiche però sono extra politiche cioè c'è un mondo dei fatti dove le cose accadono e poi c'è un mondo delle opinioni dove si crea il consenso eccetera quello che dico io nel mio libro quindi è una critica a arendt dico no la verità è politica già dal dall'inizio questo non vuol dire che il mondo non esiste i fatti non esistono ma i fatti sono costruiti e bisogna costruiti attraverso procedure di di consenso e bisogna come dire costruirli bene cioè quindi la verità diventa una nazione politica che la russia invaso l'ucraina è il modo in cui noi in occidente nei paesi diciamo della nato abbiamo ricostruito quel fatto ovviamente quel fatto è costruito in modo molto diverso in russia in cui si parla di operazione militare speciale e di riannessione di territori che sono già russi per alcuni alcuni russi come putin eccetera quindi cosa significa cos'è successo cos'è successo ci sono state delle carri armati che si sono spostati ci sono state delle esplosioni ma come descrivere quel fatto descrivere quel fatto vuol dire vuol dire fare uno sforzo che non è solo epistemologico ma è politica di formazione di consenso su quello che che è avvenuto e questo quello che dico è un processo pienamente politico la verità in questo assomiglia la ricerca della verità assomiglia alla ricerca del buon governo della democrazia perché si basa sulla ritagliare procedure di consenso che siano procedure di consenso robuste insomma e queste procedure sono procedure che voglio dire esistono sono i fatti appunto sono negoziati se pensiamo le grandi guerre i grandi massacri o le commissioni di riconciliazione dopo le guerre civili cosa servono servono a creare un consenso sui fatti cioè far parlare la gente mi ricordo che per una tesi di dottorato di una mia studentessa avevo dovuto lavorare sulle commissioni di riconciliazione del che furono messe in piedi in ruanda dopo l'orribile massacro dei tuzzi ruandesi da parte degli utu ruandesi e lì testimoni far parlare le persone dire cosa riuscire a dire cos'era successo in modo che andasse bene ai sopravvissuti di come vede quanta politica ci vuole in questo la questione che le pongo è che purtroppo la tecnologia mi ha tolto fuori dal dal nostro dialogo e quindi io sono sparito per qualche minuto temo di dover risentire successivamente quello che lei mi ha raccontato sarò onesto però la mia domanda poi l'avrebbe portata nuovamente alla tecnologia spero che non abbia toccato eccessivamente questo punto ma quanto influisce il fenomeno dell'innovazione tecnologica su questa messa in crisi influisce enormemente noi abbiamo subito una rivoluzione tecnologica che è dell'ordine del passaggio dal paleolitico alleolitico nel senso una delle più grandi rivoluzioni cognitive e culturali che l'umanità ha mai attraversato direi che rivoluzioni precedenti come in termini di impatto sulla nostra cognizione sono state la invenzione della scrittura 4.000 più di più nel quarto millennio prima di cristo la rivoluzione di Uruk e l'invenzione della stampa nel nel quindicesimo quindicesimo secolo cioè questi tipi di invenzioni questi tipi di rivoluzioni della gestione dell'informazione hanno enormi impatti sulla nostra cognizione quello che io cerco di sostenere anche nel libro è che la nostra cognizione è fondamentalmente una cognizione sociale cioè non è che cioè noi dipendiamo in tutte le epoche in tutto il mondo dipendiamo dagli altri per conoscere e oggi non non diversamente anzi in un mondo in cui c'è questo livello di abbondanza dell'informazione dipendiamo ancora dagli altri per sapere qual è la buona informazione da selezionare qual è l'informazione che conferma le nostre credenze e quelle che non le conferme ora internet ha sconvolto i nostri modi di fruizione dell'informazione e non si non abbiamo ancora istituzioni del sapere che sono capaci di avere a che fare con l'impatto di internet noi siamo ancora con istituzioni scolastiche con istituzioni universitarie con istituzioni di ricerca e di trasmissione dell'informazione con istituzioni con media che per quanto cercano ad adattarsi sono ancora dal punto di vista proprio strutturale pre internet le norme che esistono di di comunicazione le norme di verità le norme di fact checking eccetera quindi stiamo combattendo con mezzi diciamo primitivi una su uno tsunami informazionale che fa sì che praticamente qualsiasi punto di vista io abbia posso trovare qualcuno che me lo conferma su internet quindi il processo di andare dalle mie credenze private a una verifica pubblica perché la verità deve essere pubblica questo concetto di anche di platone di verità la verità e nelle piazze pubblica non può essere una nozione privata io da io nel mio piccolo giardino personale nel mio cervellino posso pensare che ho visto la scala di giacobbe che sale in paradiso però se poi non ho modo di spiegare in pubblico quali sono le ragioni mie per credere che ho visto la scala di rapporto che non era un sogno ma era realtà la mia verità non vale niente quindi la verità è pubblica e per i metodi oggi di comunicazione e di informazione sono tali per cui io posso trovare conferma del mio sogno di giacobbe da qualche parte su internet c'è un cretino che pensa che tutto questo successo è anche una dimostrazione della verità di questo fatto infatti l'ultima domanda per me è legata a questo fenomeno che è diventato sempre più preponderante con la pandemia e poi successivamente con la guerra gli esperti non solo su internet anche la televisione ha animato il dibattito e leggendo alcune figure come gli esperti a cui fare riferimento è un fenomeno complesso che ha messo in crisi la comprensione dei fenomeni come si si affronta questo fenomeno ma questo è un cavallo di battaglia del mio lavoro sono tanti anni che io lavoro sugli esperti allora il paradosso delle società informazionali sono è il seguente più abbiamo informazione che circola oggi siamo in una società praticamente trasparente al cento per cento cioè tutto il sapere è accessibile tutto il sapere tranne forse qualche file classified dai servizi segreti e anche quello a sanger è riuscito a tirarlo fuori a tirarli fuori e farli circolare cioè siamo una società con una con una potenziale di informazione che è mai visto prima cioè direi quasi cento per cento di trasparenza informazionale eppure qual è il paradosso in una società a alta densità informazionale come la nostra ci sembra di non sapere più niente e abbiamo sempre più bisogno di esperti di figure autorevoli che ci dicano cosa credere e perché crederlo ora gli esperti anche lì qual è il problema prima cosa gli esperti sono un problema nelle democrazie perché sono persone che hanno un'autorità indiscussa mentre sappiamo che appunto la democrazia dovrebbe essere un regime secondo il quale tutti hanno la stessa hanno la stessa voce in capitolo ecco l'esperto invece anche dal punto di vista del suo ruolo pubblico il suo ruolo nei confronti della politica perché l'esperto va a dare consigli ai politici l'esperto virologo del covid va a dire ai politici che bisogna fare questa procedura bisogna mettere in piedi questo questo protocollo oppure quest'altro da dove viene la legittimità degli esperti cioè noi da un lato diciamo la verità va negoziata pubblicamente le procedure di consenso devono essere democratiche poi paff arrivano questi esperti che bypassano diciamo tutti questi tutti questi passaggi ebbene questa è una questione difficile anche perché esperti come lei dice bene ce ne sono di tutte le sorte ci sono esperti che appunto diranno che il covid è pericoloso e bisogna chiudersi in casa ci saranno esperti che diranno il contrario quindi c'è una scelta poi di responsabilità di un governo per esempio a selezionare i buoni esperti ma chi cioè se gli esperti sono esperti di qualcosa che gli altri non sanno chi giudica i giudici cioè chi ha l'expertise per giudicare qual è un buon esperto ora nel libro e questo vi consiglio di comperarlo io così faccio un po' di pubblicità io provo a dare qualche chiave qualche suggerimento su come riconoscere un esperto da un quack da un da un cialtrone insomma il web pullula di cialtroni come pullula di esperti ci sono modi di misurare diciamo anche l'autorità online di un esperto che sono più affidabili di altri non voglio entrare nei dettagli diciamo gli esperti come dice gestamente lei sono un problema pongono un problema in democrazia perché diciamo vanno contro l'uso degli esperti va contro a due ideali democratici la neutralità nel senso tutte le opinioni si valgono e l'uguaglianza tutte le opinioni hanno lo stesso peso questo dovrebbe essere la democrazia gli esperti sono degli outliers le loro opinioni valgono molto di più che le opinioni della gente comune e pongono un problema di legittimità nel senso come vengono selezionati ora esistono tutta una serie di indici scentometrici la scentometria è diciamo la scienza per misurare il prestigio degli accademici se fate una ricerca con google scholar di gloria origi potete sapere se sono una cialtrona se sono una che pubblica veramente sulle cose serie quanto è il mio indice d'impatto eccetera 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 quindi diciamo anche seppure il sistema di pubblicazione scientifica ha le sue criticità ha le sue criticità è criticabile è biased non è assolutamente completamente affidabile ma diciamo siamo in un mondo in cui alla fine la gente può credere che la terra è piatta cioè misura per misura preferisco i bias del sistema scentometrico che i terapiatisti insomma almeno da una prima scrematura grossolana però insomma nel libro ne discuto molto adesso questo forse entrare nei dettagli non ci abbiamo il tempo però insomma effettivamente la questione cruciale è perché in una società a questa alta densità informazionale altissima densità informazionale abbiamo sempre più bisogno di esperti e quali sono gli strumenti per i cittadini che esperti non sono ma scemi nemmeno per selezionare i bravi esperti rispetto agli esperti cialtroni insomma sempre in una logica di una pratica incerta insomma perché non nessuno nessuno se l'expertise è veramente expertise nessuno ha l'expertise per giudicare quello esperto la scienza è un gioco molto elitista per cui chi è esperto è esperto soltanto per gli altri giudicabile soltanto dagli altri pari dagli altri esperti non certo il grande pubblico insomma può giudicarlo però il grande pubblico come cerco di mostrare nel libro non è sprovvisto di mezzi dobbiamo diventare noi cacciatori della verità dobbiamo diventare noi cacciatori della verità e proteggere il nostro giardino informazionale cioè creare fare servire da giardinieri dell'informazione cercare di usare il web in modo responsabile aggiungendo cose vere cose verificate invece che vomitare sulle nostre sulle reti sociali eccetera qualsiasi cosa ci venga in mente dobbiamo partecipare un po tutti insomma questo nuova caccia la verità in un'epoca di grande fragilità cognitiva come l'epoca dello tsunami informazionale che stiamo vivendo caccia la verità di gloria origi pubblicato da già editore ringraziamo la professoressa per il tempo che ci ha dedicato grazie tante